Buongiorno, oggi abbiamo qui Eleonora Vannucchi, fondatrice assieme a Nadia Mordini di Aiuti dalla Vallata, associazione che ha sede a Vaiano in provincia di Prato e che opera non solo a Vaiano, ma anche a Vernio e Cantagallo, sempre in provincia di Prato, nella sottidetta Val Biesenzio, ossia la Vallata. Eleonora, raccontaci com'è nata Aiuti dalla Vallata e chi siete. Aiuti dalla Vallata nasce nel 2017, ma dobbiamo fare un passo indietro fino al 2016, quando venne il terremoto nel centro Italia. Io, insieme a un gruppo di amici, aiutavamo la zona di San Severino Marche, mentre Nadia faceva la zona di Norcia. Nell'ultimo suo viaggio rimase scoperta con un trasporto, quindi io gli prestavo un furgone perché ho una dita di autotrasporti. Quando rientrò ci si mise davanti a un caffè e è nata la nostra avventura. E da quel momento Eleonora cosa succede? Nadia gestiva già una pagina di Facebook che si chiamava Aiuti per la Vallata, però raccoglievano solo generi alimentari per animali. Ma quando arrivavano sul posto a portare i croccantini si rendevano conto che non erano solo gli animali in difficoltà, ma la famiglia stessa. Ma perché da per a dalla questo particolare ci ha un pochino incuriosito? Perché non eravamo ancora costituiti, avevamo una bozza così di logo e ci chiamò un'associazione di Prato dicendoci ci aiutate a raccogliere roba per il Burkina Faso. Quindi è stato bello vedere arrivare container con il nostro logo fino in Africa, quindi noi dalla Vallata arriviamo ovunque. Ma che cosa fa nello specifico l'associazione? Aiuti della Vallata raccoglie tutti i generi di prima necessità, con le donazioni, con le spese in sospeso, dai vestiti, cioè tutto quello che necessita la vita di tutti i giorni. Poi fa eventi, mercatini, noi ci occupiamo soprattutto dei grigi. Ma che sono i grigi? I grigi sono quelle famiglie con monoreddito o che per un motivo o un altro non riescono ad accedere ai sussidi. E quindi cerchiamo di dargli una mano, una spinta. E qualche insomma... Perché ora ti spiego anche perché, perché tante persone vengano da noi anche solo esclusivamente per parlare. Perché conta più una parola che mezzo chilo di pasta. E infine un po' qualche numero brevemente? Allora, abbiamo cominciato con 15 famiglie, siamo arrivati a 105 nella pandemia, fino a una sessantina, per fortuna ci stiamo assestando ora. E per contattarvi come possiamo fare? Pagina Facebook con i nostri numeri e per mail aiutilavallatachiocciolagmail.com oppure direttamente in via del Subio 12 a Vaiano.